E allora via eccoci, mercoledì dunque spazio con la CGL, saluto subito Sara Pasqualin della segreteria organizzativa CGL Treviso, ben ritrovata Sara e ben ritrovata Valentina Durante, direttrice Inca Treviso, ben ritrovata. 04221628332 per intervenire in diretta, lo vedete il titolo, i temi che affronteremo, invalidità, pensioni, legge 104, quelle che sono le novità inerenti a queste tematiche, però Sara inquadriamo subito quella che è la situazione in questo momento per quanto riguarda il lavoro, parliamo di precarietà, tra l'altro voi avete partecipato ad una serie di manifestazioni in maggio molto caldo, le assemblee nelle aziende ma poi anche le manifestazioni di piazza, ci sono tante tematiche sulle quali si è concentrata il vostro confronto in diretto, possiamo mettere diretto in diretto col governo, dalla sicurezza sul lavoro, purtroppo morti sul lavoro ne raccontiamo spesso in nostro telegiornale, a quella che è la precarietà, quelle che sono i salari e i contratti che non sono stati rinnovati e che purtroppo si scontrano contro quella che è l'inflazione, quindi le difficoltà delle famiglie, soprattutto per le famiglie che hanno fragilità all'interno. Abbiamo messo sul tavolo così, abbiamo votato lì, richiederebbe una trasmissione per ogni tema, vai. È stata un'estate calda perché abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, l'ultima proprio questo sabato a Roma e i temi sono questi, i temi sono questi ormai che trasciniamo avanti da anni perché poi i governi si sono succeduti, però poi il problema è che i problemi sono rimasti nell'Italia, nei territori, nelle aziende, nelle famiglie. Oggi la situazione è particolarmente complicata perché a nostro avviso, spesso ci dimentichiamo, però comunque continua ad esserci una guerra alle porte, continuano ad esserci una salita dei costi molto elevata, nelle quali soprattutto le famiglie più deboli, i soggetti più fragili della nostra società sono in difficoltà ad arrivare a fine mese. Lo abbiamo detto mesi addietro con il discorso delle bollette, però ad oggi il carrello della spesa continua ad essere molto caro. Gli stipendi sono fermi, abbiamo i rinnovi dei contratti che sono fermi, tanto che siamo molto preoccupati come organizzazione sindacale perché quello che vediamo è un autunno ancora più intenso, perché poi d'estate c'è sempre questa aria di ferie, che allora le scuole si fermano e sembra che entriamo in una bolla. in realtà le situazioni si trascinano ormai. Gli interventi che stanno facendo questo governo, che li stanno facendo perché è comunque un governo eletto dal popolo italiano e comunque un governo che a maggioranza quindi ha capacità di emanare decreti, di fare leggi, a nostro avviso non stanno tutelando tutte le fasce della della società, nel senso che si sta dando molta priorità a fasce medio-alte, quindi a soggetti che a nostro avviso sono già comunque agevolati nella loro quotidianità e invece rimaniamo indietro per le agevolazioni e per dare liquidità e ridistribuire il reddito alle fasce più deboli. Quindi possono essere i pensionati, poi comunque Valentina dirà anche quello che è la rivalutazione che è stata fatta alle famiglie, soprattutto alle famiglie in difficoltà. Oggi mi piace l'idea che facciamo questo tema perché io non lo so, ma anche l'afflusso di persone che vedo al patronato su invalidità, su leggi 104, aumenta a vertice, cioè c'è una crescita esponenziale perché ormai tutti hanno qualche parente che comunque è in difficoltà. Dall'altra parte, e così tento di fare un po' di sintesi tra gli argomenti, abbiamo una sanità, un investimento nella sanità che diminuisce e quindi una tutela pubblica della salute che è inferiore e questo comporta tutta una serie di problematiche anche per fissare l'appuntamento, possono dire quello che vogliono, che è vero che ci sono dei tempi di attesa magari che li stanno riducendo, ma quello che vediamo è che si predilige una sanità privata rispetto a una sanità pubblica e questo è uno degli argomenti principe anche della manifestazione che abbiamo fatto in questi giorni. Dall'altra parte, precarità nel lavoro, c'è sempre quella... Allora Sara ti blocco un attimo perché abbiamo un telespettatore in linea già da qualche minuto e non volevo farlo spettare, allora ricordiamoci, riprendiamo, non ti preoccupare, riprendiamo la precarietà. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Sì, buongiorno Mara di Treviso. Riguardo la legge 104 io volevo chiedere o manchercare un disagio comunque. Io ho subito un intervento di una patologia a glasi, ma per fortuna mi è andata bene direi. Sul suggerimento di molti ho fatto la richiesta per essere iscritta alla legge 104 e infatti mi è stato dato un minimo di 5 punti, dal 45 al 50 in pratica. Sono iscritta, sono disoccupata perché mantengo, con dei lavoretti mantengo la disoccupazione purtroppo. e sono stata chiamata per la prima volta in totale di molti anni, sono stata chiamata al centro per l'impiego, neanche quello del Treviso forse di Montebelluna, non mi ricordo quale, per un lavoro e sono andata appunto al colloquio. Si tratta di un lavoro per non un stagio, come si chiamano, tre mesi di tirocinio, tirocinante, io ho quasi 59 anni, per cui dovrei fare tre mesi di tirocinio senza contributi, naturalmente, a 500-600 Euro, se togliamo anche i soldi per la benzina. Cioè, come faccio ad accettare un lavoro del genere? E questa sarebbe l'agevolazione che mi danno a 104, ma io, al prima possibile, infatti ho la divisione del 2024, vorrei anche non averne più a che fare, a questo punto, da donna, da una certa età, che infatti sono qualche aspetta per accumulare un po' dei contributi, visto che ne ho già 33 anni, e non me li mettono neanche e mi danno un lavoro del genere, ma stiamo scherzando, cioè, la mente non ci siamo, sentiamo cosa ci dicono, intanto vi ringrazio. Grazie, grazie a lei per la sua testimonianza, mi sembra abbastanza significativa, non so chi vuole rispondere, però, insomma, se lei dice se queste sono le agevolazioni della 104, tanto vale, allora a questo punto rinunciarci, Valentina? Sì, allora, guardi, esatto, per rispondere, insomma, con qualche tecnicismo alla signora, ma che magari ci permette anche di fare un pochino di luce, insomma, rispetto a questo mondo, no, delle tutele a soggetti con il riconoscimento dell'invalidità civile. Allora, di fatto, l'iscrizione, diciamo, al centro per l'impiego, quindi al collocamento mirato alle categorie protette, avviene non tanto per il riconoscimento della legge 104, quanto per il riconoscimento di un grado di invalidità superiore, diciamo, almeno del 46%. Se non ho capito male, insomma, la signora diceva, appunto, di essere stata valutata dalla Commissione Medica degli Invalidi Civili e di avere un riconoscimento, una valutazione di invalidità civile, appunto, con un grado, una percentuale, dal 45 al 50%. Ecco perché lei ha potuto iscriversi alla categoria protette del collocamento mirato. La 104, se riconosciuta in gravità, quindi il famoso articolo 3,3, dà altri benefici, diciamo, altre tuteli, in maniera particolare quella dei congedi retribuiti e dei permessi retribuiti per il lavoratore riconosciuto con la legge 104 grave in situazioni di gravità o per i familiari, quindi per l'assistenza, i famosi, insomma, car givers di cui si sente parlare da ultimo, no? E allora, io direi alla signora, se è ancora in collegamento e se è ancora possibile, magari di lasciare il nostro, il suo numero di telefono in maniera tale che possiamo magari contattarla per fare una puntuale verifica di quella che è la posizione sia contributiva, quindi di quanti contributi effettivamente ha versato, mi sembrava che gli cessi intorno ai 33 anni, e valutare eventuali maggiorazioni contributive che possono essere legate a questo riconoscimento di invalidità civile, quindi a questa percentuale qui. In ogni caso, fare una valutazione e andare effettivamente a ragionare, insomma, a vedere quella che è la situazione sanitaria, i riconoscimenti, la posizione assicurativa e quindi contributiva della signora, e in caso valutare anche un eventuale aggravamento, perché ricordo che è possibile presentare aggravamento di quell'invalidità civile, laddove ci siano chiaramente le situazioni sanitarie, le condizioni sanitarie, ma anche un ricorso, previo chiaramente verifica e quindi visita da parte del medico legale del patronato, rispetto a questa valutazione della commissione medica, entro sei mesi da quando poi ho ricevuto i verbali e quindi da quando è stata definita la valutazione. Quindi io direi, se non è in collegamento e non riesce a lasciare il numero per essere ricontattata, faccia comunque riferimento alle nostre 16 GL che ci sono in tutto il territorio della provincia di Treviso ed eventualmente riesce a trovarle anche per maggior velocità anche nel nostro sito o comunque un patronato proprio per andare nello specifico a valutare la posizione, eventuali ricorsi o aggravamenti oppure maggiorazioni contributive e tutele in più che ci possono essere dal riconoscimento di questa invalidità. Poi è chiaro, sull'altro aspetto legato al lavoro e al tirocinio, si potrebbe aprire un mondo nel senso che come si può pensare, voglio dire che una donna, una signora, una persona di mezza età, di giovane età, magari con un figlio a carico, con una famiglia ma anche semplicemente da sola, come può riuscire a mantenersi o comunque a continuare a costruire questo futuro se ha 33 anni di contributi e quello che gli viene offerto in questa situazione tra l'altro di disabilità, di fragilità è un contratto, cioè nemmeno un contratto ma un tirocinio, insomma è veramente difficile. Adesso ne rifletteremo anche con Sara, stavamo parlando di precarietà e credo che questo sia in qualche modo l'esempio. Visto che abbiamo aperto, ci ha dato l'assist per parlare di 104, Valentina vediamo anche con la grafica quelle che sono le novità per i familiari che chiedono congedi o permessi per assistere a un familiare disabile. Sì esatto, allora un'importante novità c'è stata ad agosto dell'anno scorso, l'agosto scorso, quando con un intervento del legislatore di fatto si è andati a modificare proprio quella che è l'assistenza, cioè i soggetti che possono assistere il familiare disabile, quindi c'è questo stop, come dice anche il titolo stesso, al referente unico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fino ad agosto appunto del 2022 il soggetto disabile poteva avere l'assistenza da parte di un familiare e da parte soltanto di un familiare. Oggi invece con questa importante novità è data la possibilità a più familiari di assistere e quindi di chiedere l'autorizzazione all'Inps per i permessi della legge 104, quindi i tre giorni retribuiti al mese, in alternativa tra loro. Quindi più familiari possono assistere in alternativa tra loro lo stesso soggetto disabile. Ci tengo a precisare però questa cosa qui, non è che ogni familiare ha diritto a tre giorni al mese per lo stesso soggetto disabile. Le condizioni, le giornate a disposizione, i permessi retribuiti in base alla legge 104 sono sempre tre giorni e ogni familiare può chiedere la propria autorizzazione all'Inps e quindi ad esempio, per fare un esempio insomma semplice, se ho un genitore disabile e ci sono tre figli, ogni figlio può chiedere per quel genitore disabile con il riconoscimento della legge 104 in gravità, l'autorizzazione all'Inps per assistere il genitore, quindi ogni figlio avrà una giornata, un figlio, un figlio, un figlio, un giorno, un giorno, un giorno sostanzialmente. Perfetto, molto chiare, questa sarà un'importante novità anche perché permette a tutti i familiari, i figli in questo caso, di poter assistere alternandosi il proprio genitore senza dar carico solo ad una persona. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono la signora Luciana di Treviso. Prego. Allora, volevo dirle appunto, adesso che ho sentito questa novità, la novità è che mio marito ha un'invalidità totalissima, cioè mio figlio ha avuto la legge 104, però l'azienda per alcuni mesi l'ha accettata, poi ha cominciato a rognare e brontolare, fanno stare a casa, non è giusto, noi queste non le vogliamo, ho dovuto cancellare la 104, premetto questa intanto. Poi, seconda cosa, io che guardo mio marito giorno e notte, perché non mi aspetta qualcosa anche a me riguardo a tutto quello che io faccio per lui? Perché se siamo iscritti, no, se abbiamo lavorato con l'Inps e cose statali, allora ti aspetta, ci vengono incontro. Se non abbiamo lavorato per lo Stato, a noi non mi capita niente, io me lo guardo di notte di giorno, girarlo e voltarlo. Seconda cosa, terza cosa, la terza cosa è che stamattina ho avuto una novità, riguardo il 7.30, l'ho fatto al CAF di Roberto, giusto? Mi hanno detto che viene a costare 53 Euro, e sa perché? Perché ho messo l'adolcitore, mettendo l'adolcitore hanno avuto delle storie, questo e quello, è andato bene, però è salito il prezzo del 7.30, insomma del costo, premetto anche che sono già iscritta da parecchi anni, da tanti anni, sarà 40 anni che sono iscritti, perciò come mai che mi vengono queste cifre mentre fuori un commercialista mi fa 45? Grazie, grazie signora, due temi diversi, vogliamo dare una risposta se volete su quest'ultima domanda del costo? Sì, qua intervengo io, allora il CAF che è la società della CGL che segue tutta la partita fiscale, ha comunque dei costi di gestione perché comunque noi con tutte le attività che viene fatte durante l'invio delle 7.30 c'è un'assunzione anche di personale, io adesso non voglio confrontarmi con le altre realtà del territorio, però ovviamente i costi, noi abbiamo contratti importanti, garantiamo un contratto alle persone che vengono a lavorare e quindi di conseguenza l'attività del 7.30 lo facciamo pagare e remunerare, in realtà c'è una quota iscritti che è un po' più favorevole e una quota non iscritti che è più elevata. La differenza è anche dettata dal fatto che noi abbiamo un'assicurazione, nel senso che il CAF nel momento in cui invia una dichiarazione del 7.30 siamo noi tutelanti di quella dichiarazione, quindi se succedono problemi rispondiamo anche dell'eventuale controllo che fa l'agenzia delle entrate se ci sono necessità di intervento, se c'è stato un errore, è ovvio che se l'errore è nella dichiarazione perché mancava la documentazione è complicato che rispondiamo noi, però ci assumiamo la responsabilità dell'invio anche della compilazione corretta del 7.30, quindi insomma noi pensiamo di dare un servizio molto tutelante, i nostri iscritti e i non iscritti, anche quelli che si rivolgono a noi e quindi dare avere di queste due situazioni in genere a quel costo. Dopodiché io rimango sempre dell'idea che il servizio che viene dato deve avere una determinata qualità, purtroppo fuori ci sono tutta una serie di soggetti che lo sappiamo benissimo, entrare oggi con lo speed della persona, scaricare e mandare via forse è l'attività più facile. Quando ci sono casi particolari che possono essere ristrutturazioni, quindi detrazioni particolari piuttosto che inserimento di condizioni particolari, è ovvio che noi facciamo tutta una serie di verifiche e abbiamo tutta una serie di formazione che viene fatta anche alle persone che collaborano con noi, quindi riteniamo che il nostro servizio sia di qualità. C'era una prima parte invece, Valentina, nella quale lei, la signora, parlava del figlio, la situazione del figlio in azienda, i problemi legati alla 104, se non ricordo male, e poi lei che diceva, mi permetto di dire tra parentesi anche forse giustamente, io assisto sempre il mio marito perché non mi viene riconosciuto qualcosa anche a me. Esatto, allora signora, per quanto riguarda il figlio, le consiglierei sicuramente di passare in una delle nostre sedi, di fissare un appuntamento proprio perché insomma qui non mi sembra magari la sede più opportuna, ma insomma per andare nello specifico veramente a verificare quello che sta accadendo, anche perché di fatto insomma se il genitore, il padre appunto ha il riconoscimento della legge 104 in gravità, il figlio ha presentato la domanda di autorizzazione ai permessi retribuiti della legge 104 per assistere il genitore o di congedo straordinario retribuito e l'Inps ha risposto in maniera affermativa, quindi di fatto è arrivata a casa la comunicazione che autorizza appunto il familiare e il figlio ad astenersi dal lavoro con queste due tutele importanti rispetto appunto alla legge 104, bisogna anche capire come mai insomma l'azienda non dà seguito a questa autorizzazione da parte dell'istituto, insomma ecco voglio dire diventa anche difficile se effettivamente è così, non dare questa, non tanto questa opportunità ma insomma garantire questo diritto ecco come minimo. No, su questa cosa qua effettivamente, scusa Valentina, le categorie nostre intervengono direttamente col datore di lavoro perché non esiste che un datore di lavoro decida lui se il soggetto ha diritto o non diritto alla legge 104, è una legge e quindi è un diritto preciso del lavoratore e della lavoratrice, quindi io le consiglio, adesso io non ho capito se il figlio è ancora dipendente, però io consiglio alla signora vivamente di contattarci sarà la categoria di riferimento del contratto dell'azienda contattare il datore di lavoro dico questo perché è successo anche a me che sono dovuta intervenire dopodiché la situazione si è, a volte sono delle frasi o delle cose che vengono dette dal responsabile del personale piuttosto che dal datore di lavoro, soprattutto se sono aziende piccole che non hanno né inizio né coda, ma che poi con l'intervento del sindacato si risolvono perché capiscono benissimo anche consigliati che è il caso di non intervenire su questa cosa. Sì esatto, hai fatto bene a sottolineare questa cosa qui anche perché appunto come dicevo non è a discrezione del datore di lavoro insomma, c'è una legge, c'è una norma, c'è una tutela che è ben oltre a quello che può essere il rapporto di lavoro dipendente e datore di lavoro, purché insomma ci sia stato seguito l'iter corretto, quindi il riconoscimento ufficiale, esatto, un riconoscimento ufficiale da parte appunto dell'Inps e quindi un'autorizzazione ad assentarsi con le giornate per l'assistenza al familiare disabile in base alla legge 104. Dopodiché signora, per quanto riguarda invece l'assistenza di fatto al marito, al coniuge e l'eventuale riconoscimento, indennità prestazione, qui in effetti è vero nel senso che non c'è una pensione, un sostegno, un assegno, un assegno assistenziale, un qualche cosa che viene riconosciuto a chi bada, a chi effettivamente presta questa assistenza ai coniugi. L'unica cosa appunto è il riconoscimento dell'indennità di accompagno, dell'invalidità civile, dell'indennità di accompagno, l'accompagnatoria cosiddetta in capo al soggetto disabile, quindi al soggetto invalido. Credo, insomma poi la signora non era entrata nel merito della questione, però insomma credo che questo riconoscimento probabilmente il marito già ce l'abbia. in caso lasci pure il telefono e la contattiamo anche semplicemente per verificare che ci siano tutte le tutele in godimento o diversamente può ritornare, se non sbaglio era la signora che diceva la sede di Oderzo dove era già tornata, probabilmente insomma già conosce le nostre sedi e credo che sia anche iscritta per fare una verifica puntuale di quella che è la sua situazione e di quella insomma dei suoi familiari, del figlio, del marito. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Si può, ecco, io volevo intervenire riguardo alla legge 104. Sì. Si può, ecco, bene, io ne ho disponito per una decina d'anni per mio padre, però voglio dire che io avevo diviso quindi tre giorni e miei figli, però non sapevo, non sapevo e l'ho saputo verso poi il papà è decedito che si poteva utilizzare anche a due anni di congelio straordinario retribuito. Questo voglio solo ricordare che è fondamentale per chi ha questo problema come l'ho avuto io, anche perché tu hai vinto a due anni di congelio straordinario retribuito e in più non sei detassato, cioè oltretutto tu non paghi i contributi in X per cui tu prendi anche di più dello stipendio che ti aspettava. Ecco, io volevo ricordare a chi ha attualmente lo stesso problema, che si può tranquillamente prendere due anni di congelio straordinario e oltretutto, ripeto, hai anche uno stipendio maggiorato perché è già valido ai fini pensionistici, questo volevo dire. Grazie, grazie, grazie per aver aggiunto questo ulteriore elemento Valentina. Ha fatto tra l'altro benissimo e anzi lo ringrazio personalmente di questa telefonata. Sono attenti i nostri tre spettatori. Sì, esatto, e anche ben informati, bene così. Certo. No, perché in effetti è assolutamente vero. Allora, la tutela principale, appunto come si diceva prima, che deriva dal riconoscimento della legge 104 in gravità è proprio questa. I permessi della legge 104 che sono i tre giorni al mese e un'importante tutela è il congedo straordinario retribuito. Chi può chiedere il congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni? Può chiederlo il familiare convivente. Quindi, più che la residenza, appunto deve essere proprio convivente con il familiare disabile, a differenza invece dei permessi retribuiti dei tre giorni al mese, perché mentre insomma i tre giorni al mese per l'assistenza al familiare disabile possono richiederle tutti i familiari autorizzati dall'Inps, indipendentemente dalla convivenza con il soggetto invalido, il congedo straordinario retribuito può chiederlo soltanto il familiare residente convivente in maniera particolare con il familiare riconosciuto invalido e quindi con il riconoscimento della legge 104 in gravità, cioè l'articolo 3,3. E' importante, quello che appunto ricordava il telespettatore, perché? Perché in questi due anni il lavoratore appunto che assiste il familiare disabile di fatto ha il pagamento della sua retribuzione, quindi riceve mensilmente il suo stipendio e la sua busta paga e in più ha il versamento contributivo, contributivo totale e che valido a tutti gli effetti ai fini appunto della pensione di vecchiaia piuttosto che della pensione anticipata o quel che sarà insomma la tipologia di pensione che poi avrà, per cui poi insomma avrà diritto il lavoratore stesso. Sono due anni che posso, che il lavoratore può richiedere, il familiare insomma appunto convivente può richiedere e può richiederli anche in maniera frazionata. Quindi, esatto, questa è un'altra cosa secondo me importante da ricordare perché sono due anni nell'arco della vita lavorativa per quel familiare disabile, ma uno può anche dire, non lo so, due anni magari sono tanti o sono pochi, però insomma posso decidere anche magari di, che ne so, adesso vivo una situazione di particolare difficoltà per un mese, due mesi, sei mesi, un anno, posso decidere di chiedere all'Inps l'autorizzazione ad usufruire del congedo biennale retribuito per un tempo diverso, quindi inferiore ai due anni. Infatti quello che indichiamo sempre noi è nel momento in cui ci si rende conto, i familiari si rendono conto che i tre giorni al mese non bastano più perché in effetti insomma le condizioni peggiorano, perché ci sono delle necessità diverse, se sono appunto lavoratori dipendenti del settore pubblico ma anche appunto del settore privato, c'è questa possibilità molto importante, quindi se prima insomma si faceva diversi, oramai anni fa, era quasi obbligatorio chiedere un'aspettativa non retribuita, esatto. Oggi invece ricordiamoci che prima di ricorrere a queste aspettative non retribuite, quindi di fatto dove non percepisco né lo stipendio né ho la copertura contributiva, ma ho un vuoto in effetti contributivo, ricordiamoci anche semplicemente di andare a fare quella domanda in più, di informarci perché di fatto esistono delle tutele di cui poter godere insomma ecco come ad esempio il congedo, importantissimo, esatto. Altro telespettatore o telespettatrice in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Posso parlare? Prego. Io ho fatto la visita per aggravamento di invalidità e io ho 100% di invalidità, perché è un cammino e ho del signore che viene aiutarmi a fare la spesa. Però ho avuto qua il verbale, mi hanno risposto, 100% di invalidità è grave, è scritto qui. Però io non ho ricevuto, sono passati due mesi, ma io non ho ricevuto nessun, niente altra comunicazione. Prego Valentina. Ecco, allora signora, l'invalidità civile è appunto questo, diciamo, riconoscimento sanitario, quindi questa percentuale, ma oltre alla percentuale ci sono anche altri requisiti che io devo avere, che devo soddisfare per aver diritto poi di fatto al pagamento della prestazione economica, della prestazione assistenziale. E quali sono? Uno di questi è l'età, cioè si parla di invalidità civile e quindi anche di pagamento della prestazione assistenziale se io ho un'età anagrafica tra i 18 anni e i 67 anni di età. Allora, in questo range diciamo di età tra i 18 e i 67 mi viene pagata la prestazione economica se ho una percentuale che va almeno dal 74% al 100%, ok? In base a un altro requisito è soddisfare dei limiti di reddito. Sopra i 67 anni, ora non sappiamo, non so se è ancora in linea, non sappiamo l'età della signora. E ancora in linea? 84. 84? 84. 84 signora? Sì, sì. Ecco, allora signora è proprio per questo che le facevo riferimento all'età, perché sopra i 67 anni quello che mi viene riconosciuto e pagato come prestazione, proprio come indennità da parte dell'Inps è soltanto l'indennità di accompagnamento, quella che viene chiamata comunemente l'accompagnatoria, ok? Ecco che se anche lei nel suo caso specifico è stato riconosciuto diciamo la massima percentuale di invalidità, no? Perché addirittura ci hanno scritto nel verbale 100% grave, ok? Quindi più di quello non può esserci se non appunto l'accompagnatoria. Queste sono valutazioni mediche che soprattutto negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi periodi sono valutazioni che vediamo spesso in questi verbali. Allora il consiglio che noi diamo è questo, se siamo ancora nei sei mesi di te, nei sei mesi, no? Dalla ricezione di questo verbale, cioè da quando le è arrivata a casa la busta, la raccomandata con il verbale che appunto indicava il riconoscimento del 100% grave. Lei sa che previa valutazione con il medico legale del patronato c'è la possibilità di proporre ricorso e quindi procedere sempre che ci siano le condizioni chiaramente, le condizioni di salute che è necessarie chiaramente per un ricorso. Oppure possiamo attendere, convenzionalmente si dà un'indicazione, insomma più o meno dei sei mesi da quando è stata valutata, quindi da quando ha fatto l'ultima visita, per presentare un aggravamento rispetto a questo 100% grave. Dopodiché è vero anche questo, l'indennità di accompagno, quando è che viene riconosciuta l'accompagnatoria, quando un soggetto anziano, evidentemente, comunque con un'età superiore ai 67 anni, viene certificato fin dal medico di base che compila il primo certificato medico telematico, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o comunque che necessita assistenza continua. Allora gli atti quotidiani della vita quali sono? Sono ad esempio la di ambulare in maniera autonoma, farsi una doccia, lavarsi da soli, prepararsi da mangiare da soli. No, perché c'è una signora che mi manca l'equilibrio, non sto neanche in piedi. Esatto, allora signora, proprio per la sua condizione specifica, io le consiglio veramente, visto che è ancora in linea, lascia il suo numero di telefono, poi non so se la domanda di invalidità di accompagnatoria l'ha presentata nei nostri uffici, insomma, piuttosto che in un'altra sede, ma questo non è un problema. Se ha piacere, lasci il suo numero di telefono che la contattiamo in maniera tale che riusciamo magari ad entrare un po' più nello specifico, nella sua condizione personale e proviamo a capire quali sono le strade che oggi magari possiamo percorrere, rispetto magari anche a delle scadenze, a questi sei mesi che le dicevo. Perché io vivo qui, viene una signora la mattina per aiutarmi per la pulizia del corpo, insomma, della madre, e poi viene quella del comune due volte a settimana a fare la spesa, e non posso proprio camminare, sono disperata e io pensavo di prendere qualcosa, perché di pensione io prendo 580 euro del marito morto. La reversibilità, esatto. Allora, signora, facciamo così, adesso staccano la telefonata in diretta, la persona che le ha risposto prende giù il suo numero di telefono e così poi noi lo diamo a Valentina e Sara che si prenderanno carico di ricontattarla, va bene signora? Grazie signora! E volete aggiungere qualcosa Sara in merito a questa telefonata? Sì, no, infatti a volte sono proprio i comuni che intercettano, intervengono su situazioni particolarmente complicate. Noi fatalità, siamo anche nelle sedi comuni, contrattiamo anche di casi specifici di persone deboli, fragili, sole, perché ho capito che la signora è anche sola e quindi se riesce a contattarci oltre ad attivare la pratica, facciamo la verifica di tutte le pratiche che sono necessarie, noi abbiamo un'attività specifica che è seguita dai nostri pensionati che si chiama appunto sportello sociale che attiva tutta una serie di soggetti, anche associazioni volontarie del territorio che possono venire incontro alla signora per determinate esigenze e per renderle più, la sua giornata meno complicata, mettiamola così insomma. Quindi se lascia il contatto oltre ad attivare, oltre a Valentina che si attiverà per tutta la parte formale di assistenza, proviamo a effettuare anche azioni concrete, perché poi quello che conta a queste persone quando si trovano sole, quando sono senza, e sono in difficoltà anche economiche, è complicato chiedere aiuto ad altri soggetti, io capisco che è anche complicato raccontare la propria storia, però ci sono tutta una serie di associazioni di volontariato nel nostro territorio che non conosciamo, che sono proprio al servizio di queste situazioni qua e noi per primi abbiamo attivato questo canale, giusto per mettere in sicurezza le persone. Quindi poi in vari modi cercheremo di aiutare la signora che ci ha chiamati. Valentina a questo punto parliamo di invalidità civile, parliamo di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, chi ne ha diritto, l'ITER da seguire per presentare queste domande, prima però abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io ho l'invalidità civile, l'articolo 3,1 e guardando tra le agevolazioni c'è anche quella per quanto riguarda il bollo dell'auto. Sono andato sul sito dell'agenzia delle entrate, perché per il Veneto è l'agenzia delle entrate a cui bisogna inviare il tutto. Ho inviato il tutto, mi hanno risposto che non è raccolta la mia domanda, perché non ho fatto una modifica alla macchina. Ma io dico, allora non ha niente a che fare con se sei invalido o meno, perché persone che hanno poi la macchina con il cambio automatico hanno usufruito. Io ho fatto delle operazioni alle vertebre, stenosi, quindi non ho la necessità di fare una modifica alla macchina. Volevo sapere se per voi, se secondo voi è una cosa dove potrei fare un ricorso o rifare la domanda. Grazie. Beh, è un caso particolare questo. Sì, esatto, sì, perché poi di fatto, esatto, dai riconoscimenti di invalidità civile, di legge 104, di collocamento mirato, oltre alle prestazioni economiche a cui siamo un po' anche abituati che ormai mastichiamo, l'invalidità, l'accompagnatoria, l'assegno mensile, eccetera, ci sono proprio tutta una serie di prestazioni assistenziali e sociali che si attivano e di tutele diverse. Per quanto riguarda il bollo dell'auto e quindi questa agevolazione fiscale, insomma anche, sicuramente fa riferimento all'Agenzia delle Entrate e visto che prima Sara accennava questo importante sportello che sarà aperto proprio dal primo di luglio, dal mese di luglio, insomma, la settimana prossima in tutte le nostre sedi, questo sportello sociale, fa riferimento proprio e aiuta i cittadini ad esempio alla compilazione di questa domanda, di questa agevolazione per il bollo dell'auto. Quindi io le consiglio anche a lei appunto di lasciare il nostro numero se ha piacere e verrà contattato dai colleghi che si occupano già da adesso, in maniera insomma ufficiale dalla settimana prossima con il mese di luglio, con l'avvento di questo sportello sociale e in maniera tale che le danno le indicazioni più precise, più opportune per dar corso insomma a questo eventuale riconoscimento laddove chiaramente ce ne sia il diritto e ci siano i requisiti per poterlo richiedere. Detta così direi che probabilmente un ricorso no, non credo che sia in termini però probabilmente magari presentare una nuova domanda, magari corredata dalla documentazione corretta. Guardi, io ho inviato, sempre tramite PEC, all'ufficio competente, come nelle loro indicazioni ho compilato la domanda online e ho mandato tutto il mio incartamento, no? Quindi siccome il bollo mi scade, dovrei farlo ad agosto, no? Io mi sono mosso tanto tempo prima, due mesi fa e quindi loro poi mi hanno risposto dicendo che non è stata colpa perché non ho fatto nessuna modifica all'auto. Allora mi viene il dubbio che non guardano più il discorso se sei invalido o meno ma guardano soltanto il discorso dell'auto. Sì esatto, magari appunto io le consiglio questo, ci lasci il riferimento, verrà contattato e nello specifico insomma andiamo a spulciare questa cosa così particolare anche per vedere se nel frattempo sono intervenute delle modifiche alla norma, no? Perché poi magari sempre di più ci sono dei paletti, delle virgole, delle requisite... Quindi bisogna sempre lasci anche lei l'invito, è quello di lasciare poi al collega che le risponde il suo riferimento telefonico e poi verrà contattato. Grazie! Allora io farei così, se la regia è d'accordo, andrai in pubblicità così poi abbiamo l'ultimo quarto d'ora per approfondire le altre tematiche, per capire poi anche con Sara quelli che saranno i prossimi appuntamenti in programma per la CGL. Pubblicità tra poco! Siamo tornati in diretta, allora riprendiamo con Valentina Durante e Sara Pasqualin, Valentina riprendiamo visto che proprio le ultime telefonate riguardavano l'invalidità per fare un po' di luce su quelle che sono le novità per l'invalidità civile che grazie a questa grafica. Sì esatto, allora l'invalidità civile poi di fatto è un riconoscimento che posso avere nel momento in cui ci sono delle menomazioni dello stato di salute. L'invalidità civile poi può riconoscere delle prestazioni e quando si parla del mondo degli invalidi civili si parla anche dell'indenità di accompagnamento come si faceva riferimento prima la signora la telefonata di prima, ma anche all'indennità di frequenza. L'indennità di frequenza che è appunto un'invalidità civile appunto riconosciuta però ai minori, quindi dalla nascita fino all'età, fino ai 18 anni sostanzialmente. È un'indennità, e qui appunto ne approfitto per dire due parole di rispetto, l'indennità di frequenza, è un'indennità pagata per il periodo scolastico, quindi per l'anno scolastico settembre-giugno. Viene sospeso il pagamento durante i mesi estivi, a condizione, diversamente invece, può continuare il pagamento di questa indennità laddove il minore frequenti dei corsi o dei centri riabilitativi durante i periodi, i mesi estivi di sospensione appunto dell'attività scolare. L'iter da seguire, insomma, per presentare questo tipo di invalidità è esattamente quello a cui si accennava insomma anche prima. Dobbiamo presentarci dal nostro medico di famiglia, del medico di base, che andrà a compilare e a redigere un certificato medico telematico, che va inoltrato appunto in maniera automatica appunto all'Inps. Questo certificato medico telematico non basta però, perché deve essere corredato dalla domanda amministrativa. Quindi fisicamente dobbiamo, insomma, attraverso la tutela, gli intermediari come dei patronati oppure in maniera autonoma, ma si consiglia chiaramente sempre di fare riferimento a soggetti chiaramente esperti, perché sono cose anche un po' complicate, si presenta la domanda amministrativa corredata dal certificato medico. Successivamente si verrà convocati a visita presso la commissione medica, salvo i casi in cui viene espressamente insomma chiesto l'accertamento agli atti, oppure appunto i casi di intrasportabilità e successivamente alla valutazione della commissione medica degli invalidi civili ci sarà il verbale, verrà redatto appunto il verbale che arriverà a casa, quindi che verrà spedito all'interessato, con la valutazione con la percentuale riconosciuta. Da quel verbale, da quel riconoscimento, si apre poi tutto il mondo delle tutele, delle agevolazioni e della 104, da quello insomma che si può aver diritto o meno. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Sì, buongiorno a lei. Niente, volevo chiedere un'informazione. Prego. Siccome io no, e ho mia madre che è di gravità al 100% a letto, niente, io però ho il mio padre ancora in vita, e niente, volevo chiedere, io ho il diritto dei due anni di, come si chiama? Congedo. Di congedo retribuito. Esatto, il congedo straordinario è. È solo per i conviventi? Sì, esatto. Allora, guardi, lei come figlio può aver diritto, purché accerti e verifichi una condizione. Uno, innanzitutto la convivenza con la madre, quindi con il genitore, e due, nel caso appunto in cui ci siano i due coniugi in vita, come lei diceva appunto il marito, il padre, e accertarsi insomma in fase di richiesta di congedo straordinario retribuito fino a un massimo di due anni, che il padre abbia un'età superiore di 65 anni e che ci sia comunque una certificazione, basta un semplice certificatore dato dal medico di base, che ci dica le patologie eventuali di cui è affetto il papà, perché potrebbe essere che anche il papà magari non ha il riconoscimento di nessun tipo di invalidità, ma può avere effettivamente qualche patologia, e il fatto che non è in grado di assistere da solo il conige, quindi insomma sua madre. Quindi si può richiedere perché ci siano queste accortezze, ecco. Prego. Ho capito, però mio padre, anche se in vita non è tanto in grado di accudire mia madre, io ho il diritto o no? Sì, allora, hai il diritto, presenti la domanda, ma deve presentare la domanda con questi ulteriori due documenti, ok? Cioè una certificazione redatta non dall'intermediario che presenta nome per conto suo la domanda, e nemmeno da lei, ma da un soggetto competente, quindi da un medico, che ci dice appunto che il papà evidentemente per una serie di patologie da cui ha affetto, comunque per il suo stato di salute, non è in grado, ad esempio anche l'età, non è in grado di assistere da solo il coniuge, ok? Ho capito, mio padre ha più di 81 anni, anzi ha 82 anni, dunque dovrà aver rientrare. Certo, quindi la presenti, se vuole, insomma anche lei, lasci pure il suo numero, che magari la ricontattiamo per un appuntamento, così possiamo fare, così possiamo insomma parlarci un attimo. Ecco, io sono in provincia di Vicenza però. Ok, va bene, magari sì, chiaramente non alla CGL di Treviso, ma magari dai nostri colleghi di Vicenza o di Schio, chiaramente, possiamo dargli magari qualche riferimento più comodo. Sì, guardi, se mi farebbe un grossissimo favore. Certo, certo, volentieri. E allora aggiungiamo il suo numero a quello degli altri suoi colleghi che hanno chiamato prima e poi li daremo a Valentina e a Sara. Grazie per averci chiamato. È andato. Allora, velocemente per chiudere il tema invalidità civile, nel caso l'Itra viene concluso, l'esito è positivo, ti chiedo quale prestazione viene pagata poi dall'Inps? Allora, appunto, come ricordavamo prima, nelle varie telefonate che si sono susseguite, la prestazione di invalidità civile viene riconosciuta e quindi pagata dall'Istituto se ho un'età tra i 18 e i 67 anni. Tra i 18 e i 67 anni è l'invalidità con un riconoscimento di una percentuale minima dal 74 al 99%, con un limite di reddito indicativamente insomma di 5.000 euro l'ordi l'anno ed è un reddito personale. L'invalidità civile invece al 100%, quindi assoluta di fatto, viene riconosciuta e pagata dall'Inps se ho sempre un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, ma un limite di reddito che in questo caso si alza perché siamo insomma intorno ai 17.900, lo sto leggendo ora perché mi stava sfuggendo, per il 2023. L'importo che quest'anno viene pagato per il 2023 di invalidità civile è di 313 euro mensili. Questi limiti di reddito non sono dei limiti di reddito che invece esistono, quindi non esistono per l'indenità di accompagno, che è di fatto questa valutazione, questo riconoscimento proprio di una situazione piuttosto grave, quindi di un soggetto che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come si ricordava prima, e necessita di assistenza continua. L'indenità di accompagno quest'anno ha un importo di 500 erotti euro al mese e non è soggetta a nessun limite di reddito. Per l'indenità di accompagno, per l'accompagnamento, può essere riconosciuta indipendentemente dall'età, quindi nel caso in cui ci siano soggetti minori, soggetti compresi tra i 18 e i 67 anni di età, o comunque ultra 67 anni, che purtroppo hanno il riconoscimento e vivono questa condizione di salute particolarmente grave, possono avere diritto e quindi possono vedere il pagamento dell'indenità di accompagnamento. Allora io ho 4 minuti, però ti chiedo Valentina, per poi fare l'ultimissima domanda a Sara su quelle che saranno le iniziative della CGL, se riusciamo ad affrontare la quattordicesima per i pensionati che è in pagamento da parte dell'Ips proprio nel prossimo mese di luglio. Esatto, esatto, quindi tra qualche giorno, la settimana prossima. Allora la quattordicesima ricordiamo che di fatto che cos'è? È una somma aggiuntiva, quindi una somma come vediamo appunto anche in... lo state pubblicando, una somma che viene erogata con la pensione in pagamento a luglio. È una somma che varia da un minimo di 300 euro a un massimo di 600 euro e che coinvolge quali pensionati? I pensionati che hanno un'età superiore ai 64 anni con delle pensioni poco sopra i 1.100 euro, questo vuol dire che sono intorno ai 1.126 euro lordi per essere proprio precisi. Questo vuol dire che fino a questo importo lordo di pensione e un'età oltre i 64 anni posso avere diritto al pagamento di questa somma aggiuntiva della quattordicesima mensilità in pagamento a luglio. Direi da luglio perché poi di fatto l'Ips parte con i pagamenti della quattordicesima dal mese di luglio ma di fatto li potrei avere anche ad agosto piuttosto che a settembre. Non devo presentare nessun tipo di domanda, comunque è una somma che viene erogata d'ufficio. Ecco che però se mi rendo conto, se il pensionato, se il soggetto interessato si rende conto di avere i requisiti per ricevere la somma e in effetti con luglio, con agosto e anche con settembre non riceve niente, allora il consiglio è passate nelle nostre sedi, facciamo una verifica dell'importo, della pensione in pagamento e del reddito per capire in effetti se presentare questa domanda all'Ips che si chiama ricostituzione per richiedere il pagamento della quattordicesima che non è avvenuto appunto d'ufficio. Ci sono appunto dei limiti di reddito entro i quali dobbiamo sottostare, diciamo il pensionato deve sottostare per aver diritto al pagamento di questa somma, di questa indennità aggiuntiva con il mese di luglio e sono dei redditi che variano, variano in base alla contribuzione da lavoro che il pensionato ha effettivamente versato e grazie ai quali i contributi insomma è andato in pensione e varia in base anche al fatto di essere stato nella storia lavorativa un lavoratore dipendente piuttosto che un lavoratore autonomo. Quindi non è una somma, non è una somma, come posso dire, una quota fissa, una somma fissa, ma è una somma che varia in base alla contribuzione versata e in base al proprio reddito, limite di reddito, oltre il quale chiaramente non mi aspetta nulla. Sara, io ho finito però, iniziative della CGL, una su tutte per sensibilizzare il governo sui tanti temi che abbiamo buttato lì all'inizio. A settembre ci sarà una grande manifestazione nuovamente, il tema sarà la precarietà, abbiamo avuto prima anche un esempio della signora, perché riteniamo che il lavoro sia una delle chiavi di lettura per dare dignità alle persone e soprattutto per permettergli di fare una vita normale, nel senso con una retribuzione corretta, quindi siamo in piazza per quel motivo lì. Continueremo in questi mesi, nonostante il caldo e nonostante le ferie, a ribadire quelle che sono le priorità di questo paese e continueremo a dire anche al governo nei vari tavoli di incontro che stiamo facendo, ma soprattutto in tutte le occasioni, che serve un intervento mirato per dare veramente reddito alle persone fragili e una ridistribuzione alle persone in difficoltà. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Nel frattempo la CGL sarà aperta anche nei mesi estivi, perché poi le esigenze quotidiane di tutte le lavoratrici, di tutti i cittadini, di tutti i pensionati, insomma lo sappiamo qual è, perché in realtà non si andrà mai in vacanza. E l'abbiamo sentito anche dalle nostre numerose telefonate, allora andiamo adesso a recuperare i numeri di telefoni di tutti i cittadini che hanno bisogno di un'assistenza. Io vi ringrazio, ringrazio Valentina Durante, direttrice Inca Treviso, grazie anche a Sara Pasqualines della Segreteria Organizzativa CGL Treviso, grazie ad entrambe, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.